Esistenza, 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 esistenza... Guardare, scendete in piazza a protestare! La mattina siamo qui, in un corteo, che ci riguarda tutti, qualche tempo che stiamo accorgendo ai balconi, ci riguarda perché vogliamo scollere il senso di piazzone nell'area di attività. E noi ci stiamo accorgendo a passare. Scendete! 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 La radiografia è fatta tutti i giorni. Il senso di ripetitore verrà installato a pochi metri dalle scuole, dalle scuole che frequentano i nostri bambini, dalle scuole della prima infanzia. Siamo stanchi e siamo tutti qui oggi per dire che noi odiamo le antenne. via, Sottino, vai, tutti noi! Vai, Sottino, vai! Vai, Sottino, vai! Tutti noi! La mattina siamo qui, siamo qui per la calvità e l'intenzione di installare il settimo ripetitore Siamo qui perché siamo stati di subire l'inquinamento della nostra terra come se non fosse già sufficientemente ammazzurata da discariche, ceneritori, otterramenti di richiuditosti Dovremmo pensare alle bonifiche, dovremmo combattere affinché si abbassano le bonifiche del nostro territorio e non l'ennesimo avvelenamento, non l'ennesimo scempio della nostra terra Siamo qui stamattina e speriamo che tutti i signori che ci stanno a sentire e a guardare decidano di accotarsi al nostro quartiere Anziché essere affacciati a lei, a lei, a loro qualcuno Sono due anni, sono due anni in cui l'amministrazione comunale avrebbe potuto fare qualcosa Avrebbe potuto costituire un regolamento adatto a proibire l'installazione degli annesimi ripetitore O quantomeno avrebbe potuto attuare un pieno, riconoscendo il sole più come la data Anziché essere affacciati a lei, 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 a lei Grazie